Dottore vuole favorire anche lei un po'? Vuole mangiare un po'? Dottore dobbiamo fare un po'? Oh! Oh! Sto studiando il greco io! Ma che mangiare? Io mi nutro d'arte, io mi nutro di cultura! E cosa c'è? Ma scusi cosa faccio? Tagliare i capelli? E va bene sì, con la stagione fresca allora ho dato una scorciatina così sono anche più ordinato. Sì sicuramente, però si toglie anche questo giubbottino che si è messo addosso, fa un caldo, scusi. Sì fa caldo però attenzione ai colpi d'aria ecco perché c'è un vecchio adagio piemontese che dice parei ecco a giugno fa mac attenzione perché tu ti togli mac la canutera e poi tu lo pigli in tarera ecco capito questo è un adagio, bisogna sempre tenere fede agli adagio cari amici venite ad aggiaggiarvi questo giovedì al meglio di roba forte summer al boffi il birrificio dell'officina ferroviaria a corso sommeliere 12 dove l'ingresso è libero ma la prenotazione è consigliata perché c'è veramente tanta gente vi aspettiamo numerosi al boffi questo giovedì roba forte summer, estivo fa assaggiare un po' ma che cos'è patane? quale deve essere a tonne e patate? a tonne e patate? metto un po' di salsa no metto un po' di polenta perché ancora... ma che polenta? la mia febbre... ma lasci stare polenta... la mia febbre... ma la mia febbre... ma la mia febbre... un po' di Slovenia igna casa